Chestnut Studio Cacchiari fra gli alberi sfori, sotto il cielo grigio, cacciatori che attraversano un ruccello, mentre uno solo d'uccello si alza a volo. Là, in fondo, quella casa che è ospitale appare, coperta di bianco in un silenzio da fiaba. E attraverso i vetri si vede la fiaba rossa nel camionetto vacillare e treni arrivano. E' domenica, è Natale, più non scende lieve sulla terra la neve.